E nonostante il mio successo sento che qualcosa dentro resta sempre stabile Ma per fortuna trovo sempre lei quella voce che da fuori mi fa leggere il mio dentro Ma certe volte è quasi come se non servissero parole ora mi posso addormentare Ma come mai ci rivediamo a settembre? Ma come mai mi lasci in mezzo alle facce andemi? Ma come mai tra i tuoi mondi senza preavviso affronterò questo presente a brutto muso? Nonostante siano rimasti adesso soli cerchiamo forza allontanando ciò che è fuori E scopri sempre che qualcuno come te cerca del sostegno e si forza proprio come hai fatto Ma come mai ci rivediamo a settembre? Ma come mai mi lasci in mezzo alle facce andemi? Ma come mai tra i tuoi mondi senza preavviso affronterò questo presente a brutto muso? E nonostante siano rimasti adesso soli cerchiamo forza allontanando ciò che è fuori E scopri sempre che qualcuno come te cerca del sostegno e si forza proprio come hai fatto Grazie a tutti!